Lo storico scenario di Piazza di Siena, la vittoria del tedesco David Villa ha suggellato l'ottantotesima edizione del Gran Premio Roma di Equitazione, gara individuale a due manche. Strepitose le prestazioni delle statunitensi Laura Kraut e Jessica Springsteen, figlia del cantautore statunitense Bruce, rispettivamente seconda e terza. L'ottantotesima edizione del concorso Ippico Romano quest'anno non ha visto il tradizionale carosello dei carabinieri a cavallo per motivi legati al Covid. L'ultimo dei quattro giorni di gare della più importante rassegna equestre in Italia si è concluso con il carosello dei ragazzi diversamente abili del San Raffaele Viterbo, un centro di equitazione che nasce all'interno di una struttura sanitaria specializzata nel recupero funzionale e sociale delle persone con disabilità.